cari amici buongiorno mi chiamo Gabriele Gandola e la domanda che mi è stata fatta è che cosa significa mille passi nell'anima per me bene mille passi nell'anima oltre ad essere il titolo del primo libro che ho scritto sul cammino di santiago per me rappresenta un vero e proprio viaggio alla scoperta di noi stessi proprio dentro di noi per capire chi siamo da dove veniamo e qual è il nostro scopo nella vita quindi una ricognizione di sé che può avere due significati il primo è scientifico infatti la scienza ha dimostrato che il nostro corpo è composto da atomi quindi da energia noi siamo fatti di energia dunque il concetto che è l'anima ad essere dentro il corpo è sbagliata in quanto è il corpo che è dentro l'anima perché l'anima si estende si espande e va molto oltre i confini fisici del nostro corpo e da un punto di vista spirituale l'anima è quel mezzo è quel filtro che permette di mettere in comunicazione il nostro spirito con il nostro corpo quindi anima da animazione da movimento e quindi grazie all'anima il nostro spirito si può esprimere in una vita materiale attraverso il nostro corpo e l'anima è anche un contenuto molto importante di informazioni che riguardano le nostre vite passate non solo quella presente e che si porta dietro sia le gioie che i dolori infatti sicuramente avrete sentito parlare dei frammenti dell'anima molto conosciuto in ambito sciamanico in cui si dice che ogni trauma spezza dei pezzi di anima in più parti e questi pezzi vanno poi ripresi ritrovati con il tempo attraverso una serie di pratiche sciamaniche e di guarigioni quindi mille passi nell'anima vuol dire entrare dentro noi stessi capire veramente chi siamo qual è la nostra missione il nostro scopo sulla vita e dunque muoverci verso quello che noi abbiamo deciso prima di scendere su questo pianeta è qualcosa che dobbiamo fare tutti e lo si può fare per esempio facendo dei percorsi spirituali conoscendo delle persone che ci possano guidare anche attraverso la partecipazione a convegni spirituali che sono molti in italia e ce ne sono di validi come per esempio quello di gina a ottobre a cui spero di partecipare spero solamente per questo coronavirus che è un po imprevedibile però sono tra i partecipanti e non vedo l'ora di conoscervi e di salutarvi tutti ciao